Luca Ceriscioli stacca tutti e diventa governatore delle Marche con una percentuale, attorno al 41% dei consensi. Un pesarese torna quindi alla guida della regione. Ceriscioli è seguito dal candidato del Movimento 5 Stelle Gianni Maggi e da quello di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Francesco Acquaroli, mentre crolla l'ex presidente Gian Mario Spacca, ex PD, candidato per la terza volta dopo aver rotto con il centro-sinistra, seguito a grande distanza dal candidato di altre Marche, Sinistra Unita, Edoardo Mentrassi. Così le Marche chiudono alla lunga pagina di Spacca la guida della regione, presidente, per due mandati dal 2005, assessore e vicepresidente nei dieci anni precedenti. Ha vinto il cambiamento, ha detto ieri sera Ceriscioli. Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto e ringrazio i marchigiani che hanno votato. Cambia il presidente, dunque, ma non la coalizione. Un centro-sinistra formato da PD e due liste, una laica, Verdi, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori e Civiche, l'altra popolare, Udc, Popolari Marche. Ceriscioli, 49 anni, ex sindaco di Pesero, insegnante di matematica all'Istituto Tecnico Industriale di Urbino, si definisce un semiprofessionista della politica. Coglie l'obiettivo e supera il 41% che assicura alla sua coalizione il premio di maggioranza di 18 consiglieri sui 30, più lui, del nuovo Consiglio regionale delle Marche. A seguire, con molto distacco, il candidato del Movimento 5 Stelle Gianni Maggi con il 21,8% dei voti. Poco distante Francesco Acquaroli, sindaco quarantenne di Potenza Picena con il 19%. La linea della chiarezza paga e non quella del sostegno a Evolta Gabbana, commenta su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Spacca la testa di una coalizione formata da Marche 20-20, area popolare, Forza Italia e Democrazia Cristiana. Resta al palo anche se i pronostici della vigilia lo vedevano testa a testa con Maggi. Invece solo quarto con circa il 14% dei consensi, dopo una campagna elettorale in cui vari big nazionali come il ministro Maria Elena Boschi e lo stesso premier Matteo Renzi lo hanno accusato di aver cambiato casacca e di essere attaccato alla poltrona. Il dato elettorale indica che il nostro progetto per le Marche non è entrato nel cuore dei marchigiani come avremmo sperato, ha commentato Spacca. Dopo l'ex governatore viene mentrassi con una formazione che accoglie SEL, partito dei comunisti italiani, rifondazione e altre sigle di sinistra, con quasi il 4% dei voti. Rivoluzionato il consiglio regionale marchigiano, i tre maggiori partiti saranno il PD, Movimento 5 Stelle e Lega sullo sfondo. Invece l'alto tasso di astensionismo, l'affluenza alle urne, si è fermata al 49,7%, quasi 13 punti meno rispetto alle regionali del 2010. In pratica un marchigiano su due non è andato a votare. Stessa situazione in provincia di Pesero Urbino con il 50,5% di affluenza. Uno scenario forse dettato dalla disaffezione verso la politica, stanchezza per i litigi tra i partiti o interni ai partiti e tra i candidati. E in merito ieri Ceriscioli ha espresso un particolare riguardo per quelli che non si sono recati alle urne. L'auspicio, ha detto, è riuscire a far tornare loro la voglia di votare.